Amiche e amici di Radio Catalan, buongiorno. Con un pochettino di ritardo causa qualche piccolo problema, siamo di nuovo in onda con oggi l'ospite, la dottoressa Alessandra De Riu, storica archivista. E allora che cosa dobbiamo parlare con la dottoressa? Buongiorno Alessandra. Naturalmente oggi riaffronteremo quello che è stato il discorso della prima volta quando Alessandra venne qui con Emma Fenu. Parliamo un po' di tutto, però non c'eravamo concentrati in quelle che invece sono determinate particolarità e parliamo di che cosa? Di fatture, di malefici, di amuleti e soprattutto di medicina popolare. Medicina popolare che in Sardegna è un qualcosa di diffuso da tanto e da sempre. E allora partiamo proprio con Alessandra per toccare diversi punti, sempre con circospezione e naturalmente cercando di farci capire qualcosa effettivamente di quelle che sono queste storie. Perché c'è molta gente che non crede e le prende come storielle o come leggende. Ecco, tu come introduci questa nostra trasmissione, questa chiacchierata di oggi? Allora, grazie Michele di avermi invitata di nuovo a chiacchierare con te, è sempre un piacere. Allora, tu mi hai chiesto di parlare, di iniziare questa nostra chiacchierata sulle fatture e sui malefici. Uno degli argomenti che mi hai lanciato per sviluppare il nostro racconto. Devo dirti che io le ho affrontate dal punto di vista scientifico, ho analizzato dei casi che sono stati testimoniati dai documenti scritti e poi ovviamente però ho anche fatto un'analisi antropologica di queste usanze. Cosa ti posso dire? Che sicuramente quello che accadeva nei secoli passati non è più quello che accade oggi. Adesso siamo un po' meno legati a queste credenze. Soprattutto per quello che riguarda il rapporto tra le persone. Però tra il vedere o non vedere, il credere o non credere, io penso che una determinata necessità dell'uomo comunque di avere sempre uno spirito magico, in qualche modo di credere nella possibilità di poter influenzare gli eventi ci sia sempre. Ecco, ma questo è legato o era legato alle nostre vecchie generazioni oppure è un qualcosa che bene o male viene tramandato? Allora, da un lato è legato alle vecchie generazioni perché tu pensa che in un mondo dove la medicina non aveva fatto molti progressi, i medici erano molto rari e riservati magari a persone che avevano uno stato economico più elevato, era difficile per il popolo accedere ad un consulto medico. Ed era anche un mondo dove poco si conosceva, nel 700, nel 600, ma anche fino all'800, non si avevano spiegazioni molto scientifiche per le cose che potevano accadere, una malattia improvvisa, una disgrazia, un incidente. Molti pensavano che questo potesse essere dovuto magari all'influenza negativa di qualcun altro, a quella che noi chiamiamo sfortuna, a quello che noi chiamiamo malocchio. Ecco, il malocchio. Il malocchio già fa parte di quelle che sono... Ti dicevo che adesso, per le quali magari abbiamo delle spiegazioni, se tu non conosci una cosa, hai sempre paura di quello che può succedere, se non sai perché ti sta capitando, non capisci che cosa succede, quindi in qualche modo ti affidi a chi ti può dare una spiegazione. Ascolta, Alessandra, talvolta si è parlato di superstizione oppure qualche volta di influenza. Influenza in che senso? Che forse penso che sia preso per occhio e talvolta mi convinco di essere proprio che abbia il malocchio addosso. Questa suggestione è un qualcosa che appartiene già all'essere umano, ma talvolta è stato riscontrato che il malocchio fosse presente? Allora, partiamo dall'inizio. Che cosa è il malocchio? L'occhio malo, l'ul, come si dice in algerese. La marassina dell'ul. La marassina dell'ul, infatti, è quella che poi si utilizza per mandare via questa influenza maligna. Pasquale Scano, di cui volevo parlare con te, dopo un studioso che aveva fatto, che era chiusa in questo libro, se lo vogliamo far vedere, che è stato pubblicato in occasione dei cento anni della morte di Pasquale Scano e della nascita, scusate, e nel 1908 appunto lui aveva fatto una ricerca che, come dici tu, ci dà modo di legare il passato al presente, cioè aveva messo per iscritto tutta una serie di racconti sulla medicina popolare che le donne algheresi gli avevano fatto. Tra queste c'è anche la medicina dell'occhio. Quando lui parla di medicina dell'occhio, parla proprio di esorcismo. In che senso? Di una modalità con la quale si può portare via l'influenza del male, della cattiveria, dell'invidia, che ci è stata riversata. Quindi di che cosa si tratta? Molte donne che hanno ricevuto questa preghiera, perché poi è una preghiera, in dono dalle proprie nonne, la notte del venerdì santo, come è tradizionato al Ghero, dicono che l'invidia è qualcosa che in qualche modo fa parte dell'animo umano, perché noi siamo esseri limitati, mancanti di molte cose, e quindi molto spesso capita che o volontariamente o involontariamente possiamo provare invidia verso una persona. Che questo però non è il maleficio, cioè quando si parla di maleficio si parla di un male provocato volontariamente, o comunque della ricerca di un danno verso un'altra persona fatta in maniera volontaria. L'occhio, invece, può anche essere messo in maniera involontaria. Perché magari io ti vedo, vedo un bambino, ti faccio un complimento. Sai, ad Algaro e in tanti paesi della Sardegna c'è anche la tradizione di toccare quando si fa un complimento. È vero, stavo per proprio anticiparti, invece sei stata tu. Tanto è vero che, tante volte, specialmente su quelli che sono gli incontri, che si fanno magari quando si è per strada, si incontra, che so io, una mamma che ha il bambino, oppure che si è da molto senza vedersi. Sai, ah che bello, ero da molto che non ti vedevo, ah stai bene. Fammi, fatti toccare. Fatti toccare, sì sì, è vero. Questa, diciamo, suggestione di mettere le mani avanti, quindi toccare la persona per poter essere, diciamo, scartata. Poi nel caso si sentisse mai dire, no, mi ha toccato, non dovrei essere presa per l'occhio. È un contatto che in qualche modo riavvicina. Esatto, ma soprattutto allontana l'occhio. È allontana l'occhio. Infatti il cocco che si usa, l'amuleto diffuso in tutta la Sardegna, che si usa per difendersi da questa influenza. Dall'occhio? Sì, cioè la pallina nera che si appende come ciondolo. È appunto fatto per distogliere lo sguardo. Tu dovresti guardare l'amuleto e quindi non guardare l'oggetto interessato. Però ci tengo a dirti... E ad agliere che cosa portavamo come amuleto? Portavamo lo stesso il cocco, anche noi. Questa pallina... Sì, perché comunque l'influenza di questo amuleto è diffusa in tutta la Sardegna. E poi si portano anche dei braccialetti fatti con la stoffa, che hanno dei colori diversi. Ad oristano per esempio è verde, ad agliere lo si porta rosso, che sicuramente è legato anche alla protezione del corallo. Insomma, per noi ha un significato particolare. E ti volevo dire però che la medicina dell'occhio è una preghiera. Sì, sì, è vero. Cosme, Damiano, se non... Porta in sé. Ognuna ce ne sono diverse, però ha degli elementi che si ritrovano anche negli esorcismi veri e propri. Perché c'è l'acqua, il potere dell'acqua benedetta. C'è il sale, che è il sale della purificazione. C'è l'olio che richiama l'olio santo. C'è il simbolo della croce. Quindi è, per come la vedo io, poi anche un po' a distanza sia dal punto di vista affettivo che mentale, quindi in maniera un po' distaccata, è una preghiera benefica contro qualcosa che magari non ci fa stare bene, ci fa sentire poco... Come dicevi tu, cosa cambia nella persona che è convinta di avere un'influenza negativa? Cambia che ci si comporta sicuramente nella vita tutti i giorni in maniera diversa. Se invece tu sei convinto di aver ricevuto una benedizione, affronti la tua giornata in maniera positiva. Pensando al positivo. Pensando al positivo, sì. Ecco, naturalmente a me risulta che tu vai e fai tante conferenze, vieni invitata in diverse località della nostra Sardegna per raffrontare questo tipo di discorso. Evidentemente tu, oltre a portare queste conferenze a parlare di quella che è la tua cultura dove tu hai studiato, avrai avuto anche l'opportunità di ricevere qualche personaggio che magari ti ha confidato qualche piccolo suo, diciamo, cosa che gli è capitata a lui. Per esempio, ti è capitato mai di incontrare persone che ti hanno chiesto a me è successo questo e questo, o no? Sì. Allora, uno dei lati positivi dell'incontrare le persone è, come dicevi tu, quello di avere un momento nel quale ci si può sedere, no? Come in un convivio attorno a un tavolo e si può parlare di passare dallo studio alla vita reale. Quindi sì, mi capita molto spesso, sempre più spesso anzi. E ti devo dire che è come se le persone si sentissero autorizzate a parlare di fatti, di avvenimenti, di racconti, anche legati magari alla propria famiglia, alla propria tradizione, di cui solitamente non parlano. Un po' per vergogna, un po' perché magari pensano che siano cose relegate a quell'ambito popolare di credenze che non hanno una valenza. E invece parlandone, innanzitutto io le aiuto a capire che nella tradizione c'è una sapienza che viene tramandata e che quindi è tutto un bagaglio di esperienze, di conoscenze che ci vengono dal passato che non possono andare perse. Perché tu pensa che comunque sono tutte credenze come quelle medicomagiche legate alla conoscenza delle erbe, alla conoscenza della natura, alla conoscenza degli astri, del cosmo, della terra. Che adesso sì, è pur vero che abbiamo la scienza dalla nostra parte, però noi come persone difficilmente abbiamo ereditato quella capacità di rapportarci con la natura che prima avevano molte persone. Penso che a me è capitato da poco di parlare con dei pastori e degli allevatori, che non sono persone che vivono fuori dal mondo, ma anzi hanno esportato i loro prodotti in continenti, in Europa, in America. Quindi sono persone moderne, però loro mi dicevano, quando tu parli di rapporto con la natura, noi sappiamo davvero cosa significa ancora. E ci piace che questa tradizione venga salvaguardata. Per esempio capire dal comportamento degli animali, dalle greggi, come cambierà la situazione meteorologica. Sì, perché magari si spaventano, intuiscono, anticipano, quindi sono dei segnali. Ecco, forse è questo il messaggio più importante, non imparare ancora a leggere i segnali che ci circondano. Allora quali sono le generazioni che più o ancora sono legate a queste, chiamiamole tradizioni, oppure antichi modi e gesta che portano ancora in serbo loro, nel senso che continuano a custodire dentro di loro. Magari il giovane è più staccato a questa situazione. Allora, noi giovani, mi ci metto anche io tra i giovani, siamo sicuramente più distratti. Ecco, perché, scusami se ti interrompo, tu hai parlato, quando io faccio le conferenze, quasi quasi ci sediamo intorno, ci guardiamo in faccia e ci raccontiamo le diverse esperienze. Io parlo da studiosa, parlo da quelle che sono le mie ricerche, parlo da antropologa, però io ricordo che quando era bambino, bene o male c'era quello che era il focolare, quello che era il bracere, dove ci si sedeva tutta la famiglia, i nonni, i noni, i zii, e qualcuno iniziava, quelli che erano questi racconti, talvolta racconti di paura, cioè non so se rendo l'idea, quando magari da piccoli ci si doveva alzare per spostarsi, se non si accendeva la luce o se c'era qualcosa che ti accompagnasse, avevi paura di spostarti in ambito di casa. Erano racconti che dovevano essere anche in qualche modo educativi, pedagogici diremmo oggi, quindi servivano, per esempio c'è il racconto in Sardegna, non so se l'hai mai sentito, ti risultano queste... La mamma è su Entum, mamma è su Sole, servivano, erano dei racconti che servivano da un lato a spaventare i bambini, dall'altro però anche a proteggerli, perché per esempio la mamma è su Sole raccontava di questa donna che faceva venire la febbre alta ai bambini che uscivano dopo pranzo d'estate, quindi per sicuramente facilitare, per tenerli in casa, esatto, per non farli andare in giro. Raccontavano, quindi sì, e quelle situazioni erano situazioni nelle quali ci si poteva confrontare. Tu mi dicevi, poc'anzi, se noi giovani, che differenza c'è tra le generazioni, chiamiamole moderne, e anche quella di mia nonna o comunque di mie zie, di persone che hanno vissuto, sono cresciute 50, 60 anni fa, che sembrano pochi, e invece il mondo è cambiato tantissimo. Allora, noi siamo più distratti. Siamo distratti e lontani molto spesso da tante cose, dalla spiritualità, quindi da concentrarci non soltanto sulle cose materiali, ma su quelle spirituali, quindi su tutto l'aspetto della nostra vita religioso, devozionale, intimo. E lo siamo perché abbiamo tutta una serie di stimoli attorno che ci fanno concentrare su altro. Se tu pensi a quanto spesso noi siamo concentrati sul telefono, se non è il telefono è il computer, se non è il computer è la televisione. Prima, ovviamente, si sentiva e ci si sentiva di più. Quindi si aveva la capacità di sentire e di percepire le cose che si aveva intorno. queste donne che curavano, queste donne che facevano le predizioni per il futuro. Penso a Maura, l'Indovinario Rotelli, la protagonista del mio ultimo libro. Il libro tuo, sì. Che è questo, lo facciamo vedere. Sì, sì, sì. Sì, sì. Questo è il tuo ultimo libro su Maura, quella donna... La donna che era stata accusata presso il Tribunale dell'Inquisizione di praticare l'arte della divinazione, quindi di fare predizioni per il futuro. Ma come ti dicevo, queste donne non è che fossero degli esseri ultraterreni, come le curatrici e quelle che praticavano la medicina popolare. Erano donne che erano abituate ad osservare. Erano eredi della tradizione, conoscitrici di tutta una serie di elementi della natura, appunto, dicevamo, le erbe che adesso si perdono e poi osservavano. Tu immaginati una donna che viveva nel Settecento, nell'Ottocento, anche ad Alghero, come in altri paesi della Sardegna. Da che cosa poteva capire se un bambino era malato, se una sorella stava per morire, se una madre era in fin di vita? Dai segni che aveva imparato a riconoscere come le era stata inserita dalla madre. Quindi imparavano ad osservare gli occhi, ad osservare la pelle, ad osservare il cambiamento della fisicità. E da lì avevano poi tutta una serie di rimedi che erano legati un po' alla fede, perché tutta una serie di orazioni, di preghiera, accompagnavano la cura del malatto. Un po' erano legate alla conoscenza, anche scientifica, degli effetti di determinate erbe. Stessa cosa vale per l'arte della predizione. c'erano donne ad Alghero, come nel resto della Sardegna, che erano capaci di dare delle indicazioni sul futuro, ma come facevano in realtà a farlo? Io non ti voglio interrompere, perché sei talmente brava nel raccontare, che a me interessa ascoltarti più che interromperti, perché certe domande te le farò dopo però. Adesso continuo. Sì, sì, sì. Ti stavo dicendo che certe donne che avevano, che venivano nominate come indovine e venivano cercate per avere delle predizioni per il futuro, oltre a leggere magari dei segnali con dei metodi che gli erano stati insegnati dalle proprie nonne, avevano proprio imparato a conoscere le persone e a capire che magari la persona che avevano davanti a seconda... Innanzitutto conoscevano la comunità molto di più. Certo. C'era proprio... La vivevano proprio. Una conoscenza... Il vicino non era uno che tu vedi uscire la mattina e ritornò la sera. No, 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 proprio si viveva. Si viveva insieme, ci si conosceva, si conoscevano le proprie storie. Quindi quando qualcuno andava a chiedere un consiglio e andava a chiedere cosa sarebbe successo nel futuro. Per queste donne era semplice a volte. Erano già predisposte perché sapevano leggere. Erano predisposte e sapevano che magari ci sarebbe stato di lì a poco un omicidio, una vendetta, ci sarebbero state delle ritorsioni, c'erano delle faide in corso, dei problemi tra le famiglie. Quindi presagire fatti funesti o disgrazie non era così difficile perché loro conoscevano la comunità che avevano accanto. Adesso ci si ascolta poco, ci si conosce poco, si parla forse tanto, ma abbiamo tanti mezzi di comunicazione. Quanti ne abbiamo? Tantissimi. Che ci distorcono da quello che sono. Però poi alla fine, come dicevi, tu non ci si siede magari a scambiare due chiacchiere. Esatto, esatto. Però, rimane sempre il però. comunque risulta che certe malefici e certe medicine popolari continuano a persistere e ad esistere in Sartegna, specialmente. Non soltanto, diciamo, nelle zone rivierasche come la nostra, ma all'entroterra si sente di più questo fattore. Allora, io ti volevo, ho studiato prima di venire, ho ripassato, ho ripassato, anzi, non studiato. Allora, per quanto riguarda i malefici, mi piace ricordare ai nostri ascoltatori che anche ad Alghero, come nel resto della Sardegna, sono stati rinvenuti. Tu conosci la località della Purissima? Sì, Monte Carro, c'è un sito... La zona di Carrabufas. La zona di Carrabufas. C'è un sito un ragico romano, poi, un pozzo devozionale dove venivano praticate atti. E poi la Purissima va a, diciamo, riversa anche verso, diciamo, la strada che va a Sassari. Sì, sì, esatto. Per cui da Carrabufas si arriva molto, deve essere un territorio abbastanza limitato, che da Carrabufas scende verso la zona Caragol, zona Purissima. Esatto, e tutta quell'area è stata interessata anni fa dagli scavi archeologici della Soprintendenza per i beni archeologici, appunto, sono state ritrovate queste lamine di piombo e di bronzo che erano delle lamine, dei pezzi proprio di metallo che venivano gettati nei pozzi sacri e ad ogni pezzo di metallo corrispondeva una maledizione. A dirvi tu. Questo per dirti di quanto è antica, di quanto sono radicate nel tempo queste... Quindi anche ad Alghero c'erano queste tradizioni forti... C'erano tradizioni forti che derivavano sicuramente dai culti pagani che poi sono state in qualche modo portate avanti nel tempo e che sono anche cambiate, sono modificate. Però se tu pensi un'altra cosa che ci tenevo a nominare è lo scavo del quartiere del quartiere di San Michele. Non so quanti sanno, io mi auguro in tanti perché è la nostra storia quindi la dobbiamo conoscere tutti. Quando sono stati riportati alla luce i resti dei morti della peste del Cinquecento assieme ai corpi sono stati rinvenuti anche degli amuleti. tra cui in corallo tra cui uno in particolare è molto bello un ramo di corallo che testimonia da un lato sia la nostra tradizione per l'artigianato e per appunto per i gioielli con il corallo dall'altro il permanere di queste usanze e tradizioni e quindi la necessità in qualche modo sentita dal popolo di difendersi dagli influssi dagli influssi maligni e c'è per esempio io ti sto buttando la tutta una serie di formazioni ma che chiudono il cerchio arriviamo nella tradizione fino al 1800 e chi non l'ha visto consiglio vivamente da andarlo a vedere nel museo diocesano di arte sacra che si trova accanto alla cattedrale c'è un bambinello la chiesa del rosario c'è un bambinello tu l'hai mai visto? no non ci sono mai entrati a dirti la verità male ci riprometti che andrai a vederlo certo c'è un bambinello che veniva usato sicuramente durante le festività natalizie questo bambinello ha una veste bianca e poi dono dei fedeli sono tutta una serie di amuletti in corallo che appese al vestito cioè come ex voto? sono ex voto e anche doni propiziatori ed ecco che qua si lega il sacro profano non so se tu hai mai sentito tempo dietro quando una coppia diciamo si sposava celebrava quello che è il rito cattolico del matrimonio i familiari nella casa dove dovevano andare diciamo gli sposi usavano portare dentro il locale dentro la casa messa in un angolo che non si potesse vedere della rete un pezzo di stola un uovo ma allora aspetta spiegami bene portavano l'uovo per la fertilità un pezzo di rete di marinaio ci siamo i pescatori un pezzo di stola e poi non ricordo se c'era anche del sale questo lo portavano mi dicevi i genitori i genitori a casa a casa degli sposi che dovevano andare ad abitare ad abitare adesso io non ricordo comunque era un compito affidato alla famiglia esatto esatto e veniva collocato in un angolo in modo tale che si diceva proprio perché diciamo il paramento sacro non doveva diciamo doveva difendere da qualsiasi attacco malefico quindi la protezione del sacro esatto del sacro la rete doveva essere quella di la rete li univa li legava creava il legame il sale era quello della purificazione l'olio adesso ti racconto ecco io adesso su questo ricordo così che ho un po' diciamo addombrato ti volevo fare questa domanda ne hai mai sentito parlare di queste situazioni? allora sì ecco mettiamole subito in chiaro ecco in quello che tu mi hai raccontato si uniscono diversi fattori li vediamo insieme allora l'olio l'olio che veniva portato nella casa come tu hai detto era un elemento sacro pensiamo all'olio sacro delle chiese molto ricercato e tempi addietro quando queste credenze erano più più forti si pensava che fosse un che avesse il potere di unire le persone quindi veniva impiegato per fare delle malie perché ecco la differenza noi qua eravamo partiti la differenza tra la fattura e il maleficio quale che il maleficio è fatto per arrecare danno la fattura pensiamo alla fattura d'amore è qualcosa che si veniva condannato dalla chiesa perché giustamente per rafforzare il legame va ad agire sul libero arbitrio comunque noi non possiamo legare una persona che non vuole che non vuole cioè la possiamo legare ma con il nostro amore con il nostro affetto con tutto quello che nella vita possiamo donargli ma non in maniera forzata e quindi per questo era condannato però come dicevi tu la rete è il simbolo proprio di questo della legatura perché in moltissime pratiche utilizzate da queste donne quando si volevano agevolare delle unioni si legava materialmente per esempio l'indumento di lei con l'indumento di lui veniva legato con il filo queste sono le fatture per queste sono le fatture d'amore ogni per esempio ad ogni nodo poi venivano legate venivano fatti dei nodi ad ogni nodo veniva e ad ogni nodo c'era qualche orazione c'era qualche orazione qualche preghiera che corrispondeva molto spesso queste venivano anche nascoste nelle case a me sono stati raccontati casi di rinvenimenti di manufatti li possiamo chiamare così di manufatti o di involti o di pacchetti che erano stati posizionati per esempio li mettevano dove passava l'interessato sull'uscio molto spesso sotto il letto in modo tale che l'influenza fosse ti volevo raccontare appunto per questo il caso di una donna di Alghero che si chiamava Maria Cosseddu è stata una dei miei primi casi mettiamola così dei primi studi che ho fatto che hai intervistato l'ha intervistato no no l'ho intervistato ed è del settecento Michele ho letto la sua storia nei documenti sì praticamente lei praticava dei rimedi per agevolare i matrimoni il primo ne consiglia tre lo sai Dagliero come le chiamavano come le chiamavano quelli che cercavano di creare quello che doveva essere un'unione la pararinfa ed erano proprio ricercate apposta queste creavano quelle che erano le situazioni la pararinfa cioè nel senso che doveva mettere alla pari questi personaggi per poter poi proseguire nell'unione che prima però ci sono anche delle non è tutto diciamo così magia e stregoneria molto è anche bisogna per capire calarsi nel tempo quanto era difficile prima incontrarsi cioè agevolare i matrimoni e le unioni oltre a questi sistemi un po' antichi era complicato perché non è che si aveva soprattutto le donne non avevano la possibilità di uscire come adesso quindi dovevano uscire magari accompagnate dal padre accompagnate dal fratello uscivano per la messa quindi prima di intraprendere esatto quindi prima che potesse sbocciare un sentimento ci voleva tempo e quindi magari queste donne erano anche donne che in qualche modo cercavano di ecco si cercavano di agevolare l'uomo ha sempre cercato rimedi per avere una vita più serena benessere quindi ti dicevo di questa sì sì prego di questa donna appunto Maria Cossedu vissuta nel 1700 ad Alghero lei consiglia alla sua alla donna che sta cercando di conquistare l'uomo amato tre rimedi addirittura tre tre nel caso vada male uno esatto quindi comincia questa sorta di tentativo il primo che gli consiglia è quello di procurarsi della terra da una sepoltura qui già entriamo nel campo oscuro e gli dice che però questa terra deve provenire da una sepoltura di un uomo che è morto per morte violenta quindi un incidente un omicidio un assassino noi diremo mamma mia e no perché nel 1700 era normale noi dobbiamo considerare che loro avevano un rapporto con la morte e con i morti diverso dal nostro io dico sempre che prima i morti come i vivi quindi la vita la nascita come la morte era un fatto più quotidiano si nasceva in casa e si moriva in casa ci si ammalava e si passava la malattia in casa adesso noi per fortuna abbiamo ospedalizzato i malati invece prima vivevano con con le famiglie curiti dalle famiglie e si moriva purtroppo a lavoro si moriva andando a lavoro tornando penso ad Alghero si moriva si diceva che dal mare veniva la vita ma veniva anche la morte molto spesso quindi si usciva per le campagne o per il mare e molto spesso non si tornava quanti casi di incidenti abbiamo documentati negli ex voto del santuario di Valverde per esempio quante incidenti in campagna con i carri o in mare con i pescherecci cioè la vita era qualcosa di da morte scusami era qualcosa di molto più sentito quindi il pensare di poter utilizzare la terra di una sepoltura non era una cosa poi così drammatica come la vediamo oggi esatto era qualcosa di più comune in qualche modo quindi il primo rimedio che Maria consiglia è quello di prendere procurarsi questa terra e di attraverso o recitando un'orazione di spargerla nei piedi dell'interessato ora noi non sappiamo se questo fosse stato fatto o meno fatto sta che arriva il secondo consiglio il secondo consiglio è se non va bene il piano A passiamo al piano B il piano B è di procurarsi delle ossa in questo caso invece in questo caso di morto stiamo andando di malimpeggi di tutti i sensi e di fare con queste ossa di sbriciolarle e di fare un pacchetto che deve essere in qualche modo portato dalla persona che deve ricevere questo influsso la classica fattura la classica fattura però tu conta che c'è un particolare che io tengo molto a sottolineare la pratica prevede sia l'utilizzo di questa polvere di ossa però la fatucchiera la maga dice all'interessata che lei deve dire delle Ave Maria e del Padre Nostro per l'anima del defunto che sta disturbando quindi sono e io questo proprio ci tengo perché c'è un po' di pregiudizio su questo queste donne sono donne devote sono donne credenti religiose cattoliche che frequentano la chiesa sì assolutamente sì e nonostante ciò portano a compimento quello che beh loro non pensavano che ci potesse essere niente di male ma era l'ignoranza che oppure lo facevano io non parlerei non parlerei di ignoranza parlerei di conoscenze diverse ma soprattutto con disinvoltura portavano avanti questo beh per loro era normale perché gli era stato tramandato dalle nonne e come venivano considerate dagli altri queste donne chiamiamole fatucchiele poi ti devo dire l'ultimo rimedio in chiusura aspetta aspetta no no non stiamo chiudendo sto soltanto interrompendo per la prima parte ci fermiamo un attimo diamo la linea alla regia per un breve intermezzo musicale ci rilassiamo un po' e poi riprendiamo per la seconda parte e allora linea alla regia e poi riprendiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.